Il Napoli continua il silenzio stampa però ha raccontato la sua versione dei fatti e la versione parla di un Napoli nervoso per le perdite di tempo del Parma durante la partita. Poi bisogna anche dire la verità fino in fondo, la parola falliti è stata pronunciata più di una volta sul campo da qualche tesserato del Napoli. Sicuramente abbiamo visto un finale non bellissimo, sicuramente sarebbe stato bello che qualche dirigente del Napoli ce l'avesse raccontata proprio davanti alla telecamera, la versione ufficiale. E questi sono tra gli altri i difetti di una scelta di...